Oggi vi faccio vedere un coltello creato da Daniele Serrano. Sul mio disegno Daniele ha fatto veramente un ottimo lavoro. Allora, intanto è completamente in titanio, lo spaziatore credo sia in carbonio, il modello è un frame lock, come vedete lui ha aggiunto una parte in acciaio al frame, dato che il titanio essendo più morbido, con la continua apertura e chiusura si potrebbe consumare. Le linee sono veramente fatte in maniera eccellente, la realizzazione è veramente ottima. Daniele ha messo due piastrine di carbonio annegate nel liner di titanio. L'apertura è con un piccolissimo flipper, il coltello è di notevole dimensioni, qui vedete il logo del costruttore e il tipo di acciaio utilizzato per la lama. c'è praticamente tutto un falso controfilo superiore, come vedete il coltello non ha nessun gioco, il liner chiude perfettamente. scorrevolissimo. Daniele ha fatto davvero un lavoro eccezionale. praticamente la parte superiore sono due liner raffiancati per irrobustire la carcassa. grazie a tutti.